Fa caldo. Fa tanto caldo. Buongiorno a tutti e buona settimana di Ferragosto. Settimana nella quale non bisognerebbe assolutamente pubblicare video per due motivi. Uno, le condizioni impietose in cui si versa inesorabilmente quando si ha un faretto puntato e nel momento in cui si registra in una mansarda imbattuta di sole. E due, perché YouTube non dà assolutamente un becco di un quattrino a tutti coloro che pubblicano video in agosto. Ma a me non dà soldi neanche durante il resto dell'anno, quindi tanto vale pubblicare. Oggi però non parleremo di geografia, storia o sociologia, ma parleremo di Insolito Trans Travel e di voi che guardate Insolito Trans Travel. In particolar modo parleremo della novità degli Unusual Travel Games. Quindi se non sapete che cosa sono, o se sapete che cosa sono e volete sentire qual è la novità, dopo la sigla. Cosa sono gli Unusual Travel Games? Gli Unusual Travel Games sono i nostri giochi a quiz che realizziamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì nelle storie di Instagram a partire da settembre 2018. A differenza dei soliti quiz che trovate su Instagram, noi li abbiamo conditi con dei punti e con delle classifiche che sono volti a rendere più competitivo il nostro gioco, i nostri Unusual Travel Games. In pratica rispondendo correttamente ai quiz prenderete tanti punti quanta è stata la vostra velocità. Quindi più velocemente risponderete, più punti prenderete. Semplice. Nel link che vi lascio in descrizione trovate le classifiche per farvi un'idea migliore di che cosa siano, di quanti giocatori ci siano, di quanti punti siano stati presi. In sostanza ci sono al suo interno quattro tipi di classifiche. La classifica mensile, la classifica annuale, la classifica di sempre che raccoglie tutti i giocatori fin dall'alba dei tempi e il UT ranking che è il corrispettivo degli ATP ranking o dei FIFA ranking del tennis e del calcio. Fatta questa veloce presentazione, alla quale sarebbero da aggiungere altri due o tre dettagli, ma andiamo veloce perché sto bollendo, andiamo a vedere qual è la novità. La novità degli Unusual Travel Games che vi voglio presentare qui riguarda proprio questo canale YouTube. Infatti le dinamiche che ci sono su Instagram non verranno minimamente toccate, ma ad esse verrà aggiunto un nuovo modo per guadagnare dei punti, che è proprio YouTube. In sostanza, a partire dal prossimo video, ogni volta che pubblicheremo un video, al suo interno vi inseriremo una domanda dedicata alle tematiche di quello stesso video. Semplice. Cosa dovete fare voi se volete partecipare agli Unusual Travel Games? Semplice. Dovete rispondere alla domanda che trovate nel video. Si presume anche in maniera corretta. Se rispondete correttamente prenderete 20 punti, non ci sono bonus per la velocità, ma ci sono due vincoli. Il primo vincolo è che dovete rispondere nel commento del video nel quale è stata posta la domanda e il secondo vincolo è che dovete rispondere entro un giorno dalla pubblicazione del video, in modo tale che non diventiamo matti a cercare risposte date anche ad un anno di distanza. Piccola nota per coloro che giocano anche su Instagram, segnalateci per cortesia nel commento anche qual è il vostro username su Instagram, in modo tale che possiamo unire le vostre giocate qui su YouTube con le giocate che avete fatto su Instagram. Questo è quanto sostanzialmente. Quindi su Instagram non cambia assolutamente niente, ci saranno i soliti tre quiz settimanali, mentre su YouTube ci sarà un quiz ogni qualvolta viene pubblicato un video. Avete un giorno per rispondere e dovete farlo nei commenti del video. Semplice ed indolore. Cosa cambia per coloro che sono già dei giocatori? Praticamente nulla. Sostanzialmente voi continuate a giocare su Instagram e sapete che volendo potete prendere alcuni punti bonus rispondendo anche qua su YouTube. Potete farlo, potete non farlo. Sapete che se voi non lo fate e il vostro avversario più diretto lo fa, può essere che il vostro avversario vi superi grazie proprio a questi punti bonus. Ma se ne voi, nei vostri avversari diretti lo fanno, non cambia sostanzialmente niente. Per tutti gli altri invece, innanzitutto benvenuti agli Unusual Travel Games, spero che partecipiate, spero che vi divertirete con i nostri quiz sia qua su YouTube sia quelli che trovate su Instagram e se vorrete entrare proprio a far parte della famiglia degli Unusual Travel Gamer, vi lascio anche in descrizione il link al canale Telegram nel quale sono raccolti, radunati, tutti i giocatori più forti, più attivi degli Unusual Travel Games. Adesso io finalmente posso spegnere questo faretto, vi auguro un buon ferragosto e delle buone vacanze. Ciao ciao!